Wax bentornato sui music fan ciao 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 a tutti innanzitutto un piacere trovarti e ritrovarti anche perché arriva un nuovo progetto arriva un nuovo singolo primo al mondo che cosa rappresenta per il tuo percorso primo al mondo sicuramente rappresenta un nuovo input per il mio nuovo mondo musicale si decisamente anche perché diciamo che hai scelto di di tornare con un pezzo anche diverso rispetto a quello che hai proposto prima con una chitarra che fin dalle prime note in qualche modo ti porta già in un mondo differente si è vero la chitarra sicuramente proprio gli strumenti musicali portano nella all'origine quasi e questo brano primo al mondo mia è diverso perché io mi sento diverso è un periodo in cui mi sento diverso da come facevo musica prima poi in mente ma musicalmente parlando effettivamente in cosa ti senti diverso in cosa gli hai sentito di essere cresciuto sicuramente per la professionalità che ho acquisito nel fare la musica nel comporre la musica questo brano per esempio è la prima volta che che è stato fatto con un altro autore andrea bonomo grandissimo esempio da seguire sicuramente e poi diverso di stato d'animo mi sento più cresciuto mi sento cambiato reinventato e in maniera positiva ma con me stesso certo ma del tuo percorso diciamo precedente a questo singolo c'è qualche aspetto che magari non ti convinceva pieno più che altro legato appunto alle le produzioni precedenti ai pezzi precedenti allora non rinnego niente di tutto quello che mi è successo a livello musicale perché se si arriva in un punto e si è soddisfatti in questo punto significa che quello che è successo prima ti è servito a me sicuramente è servito quello che è successo prima anche se magari rivedendomi adesso di come ero o delle delle incertezze sul come ero ma perché mi vedo più piccolo più piccolo proprio in tutti i sensi interessante come punto di vista lo hai accennato prima per questo per questo pezzo hai scelto anche di affidarti ad una firma importante come quella di andrea di andrea bonomo come ti sei avvicinato ad andrea allora ci siamo organizzati attraverso le persone che lavorano con me insomma con con curci edizioni curci ci siamo ritrovati in studio per fare una canzone ma subito sai com'è che è partita è partita proprio secondo me che mi ha visto che io mi ero tolto le scarpe ed eravamo in studio no eravamo proprio in maniera quasi come se il divano era sulla spiaggia non so eravamo tranquilli eravamo già entrati con gli ho spiegato un paio di cose sai non si incomincia secondo me subito a fare musica prima ci si racconta perché se no come credi di avere una sintonia con le persone che devono scrivere per te e subito ci siamo collegati attraverso le parole dei racconti di aneddoti e abbiamo cavalcato l'onda della musica abbiamo creato primo al mondo ma io credo che comunque conoscendo andrea e conoscendo anche un po quello che è stato il tuo mondo musicale finora vi affidate entrambi all'istinto io credo che comunque ci sia molto istinto nella vostra musica è vero è un sacco istintivo anche secondo me io con lui io l'ho veramente sembra che stia vendendo un prodotto ma perché andrea buonuomo per me è veramente un grande esempio da seguire e tuttora ci sto facendo anche altre cose perché non è impossibile abbandonare la nave dove ti ha portato su a scoprire l'oro lui veramente ma mi ha dato un sacco di un sacco di valori in più ma diciamo che è un pezzo questo che colpisce anche proprio per il tipo di produzione perché lo accennavamo prima il suono della chitarra comunque il suono di diversi strumenti che proprio differenziano anche il pezzo rispetto a quelli tuoi precedenti quanto tu sei intervenuto anche nel lavoro di renzo stone renzo stone è un grandissimo altro soggetto per me e con cui anche lui ha creato una bella affinità io sono intervenuto dicendo solo una parola di inizio una premessa io ho detto renzo meno c'è meglio è lui ha messo la chitarra ha messo un violino una batteria e abbiamo scritto la canzone non serve tanto cerchè noi ci siamo detti l'importante è che il testo venga realizzato in quella maniera lì dare importanza al testo si credo che appunto la valorizzazione del testo credo che sia un altro dei punti di forza di questo singolo perché secondo me mette in risalto molto bene che quella che è stata la tua metamorfosi comunque una tua crescita ad un certo punto di vista anche la capacità forse di metterti in gioco ancora di più in prima persona si ha detto bene metamorfosi secondo me quasi il termine giusto devo dire che proprio sono soddisfatto di questo singoli singolo come vada vada perché semplicemente una firma che ho messo con me stesso sul nel dire ok sono cambiato e ma è meglio quindi sono molto quando sono consapevole sono più consapevole ma il violino comunque gli archi mi hanno fatto pensare anche quella che è la tua formazione comunque il fatto che comunque tu suoni il violino ed è uno strumento che ti appartiene e comunque appartiene anche a quello che è il tuo immaginario musicale appartiene proprio al mio immaginario musicale detto bene il violino secondo me anzi sai cosa saper suonare uno strumento è una cosa fondamentale secondo me tu secondo non puoi troppo pretendere di fare musica senza averla un minimo studiata devi averla studiata in qualche maniera ogni cosa si riconduce all'origine ma questo pezzo quali prospettive apre verso il tuo futuro musicale visto appunto quanto è diverso rispetto ai precedenti è diverso ti dico l'anno scorso sì io sono c'era questa cosa ma si deve trovare la modalità per metterla fuori per farla capire alle persone e spesso le persone magari pensano a buttarla fuori allora questa verità ma non è così semplice quello che io voglio fare adesso che vorrei fare che le persone vorrei che le persone capiscono e che la cosa a cui mi voglio aggrappare è la semplicità essere in maniera più semplice possibile ma se dovessi chiederti qual è oggi l'aspetto della tua musica del quale vai particolarmente orgoglioso la semplicità questo è l'aspetto più importante ma lo hai capito o credi che comunque questo sia in qualche modo il via ad un aspetto anche più semplice nella composizione è il via è giusto dire che è il via è l'input appunto che mi possa fare evolvere sempre di più due anni fa diciamo che facevi musica ma ancora eri molto lontano dal dal mondo del talent televisivo e quello che poi ne è seguito oggi che consiglio daresti a quel ragazzo che appunto nel diciamo nella primavera 2022 stava per iniziare davvero una carriera musicale il consiglio che darei sarebbe prima di reagire distinto fai un attimo un passo indietro ed è questo il concetto metaforico del brano che appena uscito prima un primo al mondo per questo che io vorrei che questo brano lo possano ascoltare più persone possibili perché una cosa che riguarda secondo me tutti mi sembra molto interessante diciamo che è importante anche per quanto riguarda il tuo percorso anche il rapporto con con tuo fratello con il quale hai avuto modo di lavorare e anche lui ha un suo percorso artistico come ha recepito questo progetto un po diverso rispetto a quello che lui ha proposto finora e soprattutto quali consigli può averti dato ti ha dato anche per intraprendere appunto questa che è la tua carriera musicale fratello è proprio ecco parlando distinto lui è proprio il ragazzo più istintivo del mondo io li voglio un sacco di bene anzi lo amo penso sia la persona che mi possa veramente fidare al cento per cento lui musicalmente è sempre stato un punto di riferimento per me nel creare le cose e andare fuori dagli schemi lui mi ha fatto iniziare a fare musica lui è stato e tuttora tante volte facciamo anche cose insieme mio fratello ci divertiamo perché va bene un lavoro ma lo fai anche perché hai trasformato il tuo gioco nel lavoro si l'ultima domanda è legata al futuro abbiamo visto qualcosa del passato del presente ma guardando al futuro se dovessimo incontrarci fra un anno quale traguardo vorresti avere raggiunto che domanda vorresti che io ti potrei porre appunto fra un anno tra un anno vorrei poter ridire vorrei poterti dire che prima al mondo è stato un gran successo che le persone mi hanno capito sotto questo punto di vista e la mia semplicità è stata raggiunta poi vabbè non si smette mai di imparare tra un anno vorrei dirti che voglio ancora fare miliardi di cose ecco o magari sono contento di essere stato su un palco del genere sono contento di essere stato su un altro palco del genere ci sta ma l'importante è essere capiti compresi nella propria musica compresi compresi io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica grazie e a presto grazie buone interviste